noi siamo infinito complimenti ciao irene hai appena fatto l'incontro individuale con luce che sensazione hai provato bellissima la commozione tanta l'avevo vista seguita sui video di persona è molto di più è molto di più è proprio luce è proprio il suo nome perché luce e quindi la sua luce ti arriva proprio ti ti avvolge le sue parole le sue ogni cosa è amore io ho sentito questo soprattutto cosa ti porti a casa da questa esperienza con luce mi porto intanto consigli che mi ha dato la speranza e anzi direi la certezza di mettere a frutto un dono che sapevo di avere ma che lei ma confermato e quindi spero di poterlo mettere al servizio questo soprattutto consigli le esperienze con lucia gli incontri decisamente ripeto decisamente grazie per la potenza grazie a te andrea ciao 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 mauro ciao ieri hai frequentato il seminario con luce che sensazione hai provato e cosa ti si è portato a casa di questo seminario sensazione di serenità di interiorità e mi sono portato a casa tante nozioni nuove su cui riflettere su cui impostare il cambiamento della mia vita e hai appena fatto un incontro individuale insieme a luce ecco che emozione hai provato che cosa ti ha dato luce da questo incontro anche qui c'è dunque un percorso mi ha fatto capire chi sono io il mio la mia interiorità e come posso portare questo messaggio questa mia interiorità al resto a chi mi sta tornando consiglieresti questo questa esperienza a tante altre persone anche ai maschietti certo fa bene fa bene allo spirito questo grazie mauro grazie a voi grazie a luce ciao monica hai appena fatto un incontro individuale con luce che sensazione hai provato e cosa ti porti a casa da questo incontro allora è stata un incontro subito potentissimo perché da luce è arrivata un'energia incredibile di accoglienza e di amore molto forte e di riconoscimento e in pochi minuti praticamente mi ha dato tantissime informazioni fondamentali per la mia crescita personale e mi ha dato delle risposte che da tanto tempo cercano e quindi che dire ho fatto solo bene bene è stato veramente credo che mi segnerà in maniera veramente importante questa cosa guarda gli occhi lucidi nell'emozione ancora la trasmetti perché comunque si è uscita poco fa e quindi si si vede già tutto questo e noi ti ringraziamo per essere stata qui e se consigli gli incontri e con luce e quindi certo che consiglio a tutti grazie è una malagna di amore che ti arriva a tutti in un colpo e ti fa stare solo bene ti ringrazio monica ciao grazie a te grazie a voi ciao ciao federica com'è andato l'incontro individuale fatto con luce? dunque ho questo sorriso sul viso perché è stata una cosa meravigliosa mi ha dato la conferma ad alcuni miei dubbi e quindi ho trovato una leggerezza in me costruttiva e che mi dà forza per andare avanti sul mio percorso e ringrazio moltissimo Lucia ringrazio moltissimo Andrea perché si sono offerti questa maratona diciamo cosa ti porti a casa dopo questo incontro? mi porto tanta serenità e voglia di fare voglia di fare per gli altri voglia di concludere qualche cosa di vedere che gli sforzi che uno fa nella vita sono quelli giusti sono quelli che ti portano a progredire anche nel capo spirituale grazie Federica grazie a voi grazie ciao Mitena ciao allora anche tu hai fatto il seminario ieri con luce che sensazione hai avuto cosa hai provato di questo seminario? mi sento rinata ci credevo che avrebbe accaduto tutto sto cambiamento ma non così forte veramente mi ha sconvolto la vita sono cambiata totalmente oggi hai fatto anche l'incontro individuale con Lucia si che emozioni porti a casa? non si può spiegare in parole quello che ho vissuto in questo incontro individuale perché si è manifestato il divino davanti ai miei occhi come non c'è spiegazione per spiegarlo non solo se posso spiegare quello che è successo prima di entrare all'incontro con Lucia proprio davanti ai miei occhi si è manifestato un miracolo in questo incrocio qui dove c'è la ferrovia una ragazza con una mercedes bianca non ha dato precedenza a un scooter che per un secondo io non ho visto la parte bassa ma ho sentito l'urlo di questo signore che era quasi finito sotto la macchina dall'albero ho visto come un'energia grande che l'ha prelevato e l'ha spostato davanti dalla macchina l'ha miracolato non so se quell'uomo si rende conto della fortuna che oggi ha passato perciò ho vissuto un sacco di emozioni già partendo da casa ieri fino a questo momento è stato un continuo di emozioni ti ringrazio io mi ringrazio e sicuramente continuerò a seguirli grazie ancora grazie a te grazie a te